Benvenuti ragazzi, oggi sono in questo nuovo video, sono Jack Mochise the Rains e oggi siamo su questo video su porta di nuovo su porta no ma sono ma aia morto ma devo fare là ok allora va va là e poi va là e poi va qua bubba 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 Aspetta qua Aspetta Aspetta un minuto Non c'è una palla da lì Beh Mi sono spaccato 3.000 pezzi Allora Non c'è una palla Non c'è una palla Non c'è una palla Non capisco Non capisco E continuo a uccidermi così a caso Non capisco Non capisco ma è l'alcos c'è questo che fa c'è quello aspetta ma però non sto praticamente capendo niente che faccio là praticamente sono qua non è falso no no facciamo sì ma ok cosa ho fatto ci ho fatto così non capisco neanche io come ho fatto ma basta che ci ho fatto no come come si aspetta aspettare lo so non so mi spara la porca la trota ok ecco chiaramente lo spara ho messo la portella la cosa ha sparato è andato di qua io ho fatto portare qua e è andato qua così a caso vabbè non l'avete visto ma vabbè si 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 però io sono bravo a fare test meglio e cavolo ho fatto va boom 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 spara tutto io si sa che ho raggiunto il locato live 1.9 ok allora ovviamente faccio faccio così ok 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 ho capito no sono troppo va l'acqua la ma anche ma anche così veloce che mi ha crescente er sono troppo va cc Vai! Vai! Stai caricamento Stai caricare il momento Caricamento Stai caricamento Cosa c'è? Un cavolo Oh! Boh, vabbè Ehm Oh Che 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 Oh, calma Aspetta Io Dove Come Dio Quindi Che Dove Fare Voila E per fare Voila Giusto Oh 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 Un momento Ho capito Ho capito Ho capito tutto Non Non Più in alto E Vila No Allora Più in basso Proprio 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 Ingrid Proprio Trolli Trolli Trolla il gioco Ho trollato il gioco Cosa non ci avete pensato? Vah Wahah Vabbene Facciamo i segni per una volta In questo gioco Ok facciamo troppo con i spidelli i stupi pegamento grazie se potessero fare praticamente devo fare una serie su portal 1 grazie ecco dovete dirlo gentilmente portal gun portal gun in serious testing environments the enrichment center promises to always provide useful advice for instance the floor here will kill you try to avoid it st 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 Oh Dove sono l'altro qua? Sì E sono morto così a caso La vita è bella quando dura è bella Così Sono diventato a naso Mi sa No No Ok Capito E muoio Mi spacco Ho capito come avvero Non ho capito Davvero l'ultima parte Vole a fare No, o la fa qua No, fa qua No Eh, si è baggato il gioco Si è baggato il gioco Si è baggato il gioco Amo, ti aiuto Aspetta Mamma mia Mamma mia Ma che è Dai Ah, devo aspettare 3 milioni Di mila Mila Ore Per fare una cosa del genere Mamma mia Papà C'è Proprio Proprio Non ho capito bene Ma devo fare Ma devo fare Prima Grazie Non lo sapevo che Utilizzare Ma Proprio Il Proprio Il Il Buongiorno Buongiorno Non vedi Ma Taglio ci vuol Allora Allora Ora Aspetta Oh Grazie a tutti. 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 Allora, ora ho capito come devo fare. Aspettate qua. Aspettate un momento. Io ora faccio così. Va bene. Ora, vediamo che viene sto coso. Oh, mamma mia. Mamma mia però. Dai. Non ci sta sto coso. Ma è più veloce. Non posso perdere. Porta dietro. Vabbè. Questo infinito è oltre. Dai. Dai. Uh. Sì, lo so. Mi state stancando di vedere me che faccio. Uh, dai. Però va bene. Oh. Oh. Basta. Non ce la faccio più. Il mio cervello sta scoppiando. Per come sta scappiando? In un muro, nell'altro scoppiando. Sì. Il stagge è questo. Sì, il stagge è 12. Io ti avrei dire di filiola qua, quindi se vi piace molto qualche discorso spazzato, ci vi da fare un parola di portal. O di, non lo so, decidi dei tensi poi. Quindi, per ragazzi...